ciao ludovica oggi che cos'è carnevale ma che carnevale capodanno oggi oggi si festeggia l'ultimo giorno dell'anno vero e noi ci dobbiamo vestire subito subito perché stanno arrivando gli ospiti stanno arrivando e dormono qui con noi per festeggiare il capodanno vero luli e poi soffiamo i colandoli si accenniamo le stelline spariamo i fuochi facciamo un sacco di cose belle brindiamo aspetta ma prima dobbiamo vestirci perché questo è pijama eh dobbiamo vestirci tu ieri hai scelto un outfit vero e adesso lo metterai vai uno due tre wow che bella che sei luto chi c'è qui un cagnolino e un gattino questo c'è il frontino e questo c'è il cappello che carino e poi una gollellina e poi un frontino wow fai una giravolta che bella che sei ma ci manca cosa ci manca i trucchi allora aspettiamo aurora e poi vi andate a truccare insieme aurora ma tu sei ancora combinata così stanno arrivando gli ospiti dobbiamo festeggiare capodanno muoviti ti devi ancora vestire truccare lavare i denti pettinare muoviti su 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 presto adesso ti devi vestire facciamo una cosa facciamo una cosa io mi vesto qui uno due tre ragazzi ho deciso di cambiare perché quello la non mi piaceva tantissimo perché quello che hai scelto ieri non piaceva l'ha provato ma non si sentiva a mio agio no e quindi ha cambiato outfit ho messo delle calze nere una bellissima connellina e una maglia bianca e un frontino col fiorellino nero che carina che sei amore ok adesso passiamo al trucco che ludovica ci sta aspettando ludovica ci stai aspettando ci stai aspettando ludo ma certo amore ed eccoci qui ma ci trucchiamo ok passiamo al trucco su su che gli ospiti stanno arrivando chi si trucca per prima va bene lulu va bene ok mi raccomando ci vuole il rossetto rosso ma che prendiamo questi rossetti lei ha i trucchi di Elsa Anna cerchiamo di Frozen va bene dai vediamo un po' vai truccati lulu allora prima di tutto lo fa un casino vuoi vedere un casino prima di tutto facciamo di Anna il trucco di Anna vuoi metterti un po' di rossetto rosso ma no ma no no ma io non fare danni ludovica eh che già ti conosciamo vediamo oh si guarda anche oh ma 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 che fai lulu non è che te lo devi mangiare eh questo trucco no mettilo sulla bocca così devi fare ma dove ce lo sto mettendo ok basta fai così fai così fai così come ok ok di glitter poi dove li metti i glitter eh non combiniamo di trastro perché questi volano ovunque eh lo sai che volano ovunque eh no piano 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 meglio che te lo apri ad ora no 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 eh vediamo di non fare guai ma scusa ma Ludovica ma dove ti metti questo dove te lo devi mettere sto viola sgargiante eh ok è viola del signore non facciamo di te ok ragazzi io non voglio volare la vedo nera ma dove sei ma che te lo metti in fronte che stai mettendo la fumata Ludovica oh mamma mia ragazzi lo metti un po' così a casa no non ce la posso fare Ludo fai così così va di più va bene ok basta direi che può bastare Ludo ok ma questo è un pazzo da Marco ma c'è uh avete mai visto una signora che si mette il glitter così vediamo Ludovica mmm ci sei fatta proprio due benei mi sembri capitano uncino capitano uncino va bene ma facci vedere le tue mani allora chiudi tu quei glitter che li vedo a terra non vuole ok poi allora prima la cremina cioè ma vi rendete conto ha usato questi glitter ragazzi ok poi Ludo chiudiamoli bene l'ultima cosa eh poi basta no 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 come no 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 il rossetto ah il rossetto russo eh sì ok ok questa è la sua crema ti vi ho detto eh ok adesso che ne dici se il rossetto russo te lo mette Auri si mi qualcuno ha fatto la tosse Ludo ma non me lo prendi tutto di glitter va bene dai si pulisce vai vai Ludo vai giusto devi mettere così guarda devi fare no ragazzi aiuto oh brava vediamo vediamoti oh ancora ragazzi vuole abbondare questa signora tesoro vediamo come sei bella adesso e no basta non fare tutto mischiato questo no questo no questo no questo si sporca di rosso dopo ma questo è il verticale signora questo qua è il mio allora il profumo Ludo il profumo Elsa ti sei dimenticata il profumo che profumo vuoi? ah bene si vuole proprio tu ok Elsa questo è il mio preferito questo è il mio preferito questo è quello più bello che avete il mio è questo qua profumo mmmm che delizia su su che stanno arrivando gli occhi ci sta arrivando Giulietta muoviamoci messo brava Ludo adesso tocca a Dauri mi stavo anche già truccando nel frattempo dai dai che sta arrivando Giulietta presto un po' di rimmel un po' di rossettino stiamo facendo tutto di corsa che abbiamo fatto tardi un po' di rossettino profumino profumino si sente da qui questo profumino ok adesso andiamo che Giulie ha bussato alla porta andiamo subito andiamola ad aprire ragazzi tutta la nostra tavola preparata avete visto vediamo Lulù che ne pensa Ludo hai bevuto la coca ma andiamo a vedere i nostri genitori che cosa stanno facendo di buono vediamo questa è mia mamma che sta cucinando che stai cucinando stiamo preparando un po' di salmone delle bruschettine col pomodoro e tagliamo altro pane che stanno arrivando gli ospiti e andiamo a vedere altre cose che hanno fatto vai a vedere papà cosa ha cucinato vai vai va bene andiamo a vedere ho fatto rucola gamberetti grana e poi limone per chi lo vuole condito con olio e sale va bene andiamo a vedere state giocando come si chiama questo gioco? Twister? sì ti sei messo anche l'occhialino Auri per giocare a Twister? sì perché però adesso mamma secondo me li spaccherò perché ma stai facendo una spaccata Auri che stai facendo una spaccata ma mamma c'è adesso chiamiamo 118 va che prendo già il telefono sì ok non fa niente mamma la spaccata non fa niente la spaccata e grazie tu sei fatta di gomma sei elasticissima mano a sinistra sul blu ma stai fuori mano a sinistra sul blu mamma ma come faccio? sul blu io sono già in coma eh che stai giù cade 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 mano a sinistra sul blu mamma ma come ha contestato fatta con il blu oooooooohh ci sono due 50 ludo non posso ci sei ludo ma non posso a disegnare viene sinistra sul giallo amo due 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 3, 2, 1 3, 2, 1 Buon anno a tutti voi che ci avete accompagnato in questo primo anno insieme su YouTube Buon anno a tutti 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 Buon anno a tutti